... Petellino giallo, ci sta! pronto a sfidare il portiere dagli 11 metri può essere il primo gol della gara una freddezza incredibile l'ha messa dentro quando si presenta dal dischetto è difficilissimo che sbagli ecco un altro esempio della sua forza c'è un urlo pazzesco è davvero straordinario l'entusiasmo dopo questo gol davvero un popolo in festa 2 a 0 non manca molto alla fine del primo tempo questo è un gol pesantissimo ha un sinistro davvero magico e i gol ne è la prova arrivare una doppia sostituzione 3 a 0 e dunque arriva anche il punto esclamativo arriva la parola fine a una partita perfetta sono certo che dovrà ringraziarlo a lungo per quell'assist un inserimento magnifico questo è il gol che chiude definitivamente i giochi una prestazione straordinaria che partita fantastica per i tifosi che prestazione straordinaria da parte della squadra così come va sottolineata la resa di ogni singolo giocatore è arrivato il momento dei saluti rimanete con noi ovviamente con le prossime occasioni con il grande calcio grazie di cuore anche a Giuseppe Altafini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti